Bene ragazzi, sono Daryl e sono tornato con un nuovo gameplay e con un nuovo episodio di A Voi La Scelta! E... quanto era che non facevo un episodio di A Voi La Scelta? Era veramente tanto, forse dopo il RomaTube... Prima del RomaTube, scusate. Non guardate il risultato perché oggi siamo con una classe del cazzo, siamo con... Scudo Antisommossa, aia. Oh, suicidio assistito ragazzi! Comunque stavo dicendo, scusate Antisommossa e non bastasse siamo con la pistoletta più scomoda da usare, che sarebbe la Magnum. Quindi proprio una merda. Adesso ci ha detto bene per ora che abbiamo cominciato sparando al coso. Olè, olè, attenzione! Partitone, si prospetta. No, da dietro no, così sei una merda. Comunque dai, già due uccisioni non pensavo di farne manco una. Attenzione, questo qui mi ha rubato la classe! No! Fatela piander culo! Oh, olè! Dai un po'. Sì, sì, spara, 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 spara. Mori stronzo! Mamma mia ragazzi! Come va? Come viaggio? Come viaggio? Qua non c'è nessuno. Comunque... Madonna! Maronna! Oh, c'è il Satcom! Coglione! Sei un coglione, lo sai! Manco mi aveva visto quello! Cioè io perché stavo... Stavo cercando di... Di fregarlo in qualche modo ma non mi aveva visto. Cioè, vabbè. Stavo ragazzi, 5-3! 5-3! Che cazzo? Già hanno fatto la game! Non so se è nemica o amica, però vabbè. Oh no! Eh? È nemica. Perfetto. No, non è vero. Vabbè. Non c'è stato capicazzo. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Olè! Avanti il prossimo, su! Avanti un altro. Oh. Sì, vabbè, pure io però so scoglione. Cazzo! Qui si prospetta la possibilità di poter finire in positivo. Quindi, ragazzi, andiamoci da fare. Spara, spara. Spara, spara. È solo un coglione. Perché non sapevo che dietro c'è stato quello. Comunque. Olè! 7-6, ragazzi. Attenzione. Incredible. Vieni, vieni. Spara, spara. Spara, spara. Olè! In testa, mamma mia. Puff! Tanto io mi cerco di concentrarmi. Oddio, ce l'ho dietro. No, no! Come l'hai preso? Come? No, io voglio proprio vedere. Vabbè, dai, ma queste... Questi bug! Questi bug! Eh, dai, però... Eh, mi devi far gire all'angolo, almeno, eh. Almeno quello. Spara, spara! Vieni, vieni! Oh, oh, oh! Ma come se c'è lo scudo? Come fa? Dio! Ti è beccato di questi... Ci appassi sghei. Hihihi, è tutto gay! Vieni, vieni. Eh, vabbè, ma dai, però... Quanto sto? 8-10? No, non è possibile. S'ha andato tanto bene. Tacci vostra. Attenzione, ritorno! Il ritorno! Dario Returns! Come? Cristo! Fai! Oh, comunque, raga, zitti, partita equilibrata. Stanno a perdere colpa mia. Dai, un po'. Stanno tutti qua. Tanti è il cane! Il cane! Sì, sì, dai, eh. Stronzo! Vai con la valigia. Oh, c'ho il sistema... Sbadamf. Mortacci tua! E De Kinto dice con la mano alzata! Oh, mortacci de tu! Dai, su! Eccola, 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 eccola! Ma che cazzo è un Juggernaut? Ma dai! Oh, 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 colpa da testa senza mirare con la magnum! Ciao, ciao! È finita? Abbiamo vinto! No, no, no abbiamo vinto. 12-14! Non pensavo di far neanche un'uccisione con sta classe de merda! Comunque, ragazzi, anche questo episodio è finito! Mi sto esaltando adesso alla fine che è finita la partita, non so perché! Noi ci becchiamo al prossimo video! E niente! Bella!